Il 24 gennaio il Vescovo ha incontrato i giornalisti per la festa di San Francesco di Salle. Mi sono chiesto ma perché San Francesco di Salle è patrono dei giornalisti? Perché mai possiamo affidare a lui il compito delicato e così importante della comunicazione anche in questo tempo? Questi tratti riguardano il metodo, lo stile e il messaggio. Le parole del Vescovo hanno aiutato i giornalisti ad entrare nel tema della mattinata di formazione. Il relatore Alessandro Galimberti, presidente dell'Ordine regionale dei giornalisti, si è soffermato sul tema il diritto ad essere correttamente informati, i media tra disintermediazione e la sfida per una comunicazione al servizio della verità. Io credo che la comunicazione e l'informazione hanno preso una china molto pericolosa perché si è smarrito completamente la deontologia, l'etica e anzi di più si è smarrito completamente il rapporto con la verità. Questo non è dovuto alle nuove tecnologie, non è che la nuova tecnologia è un male in sé. La nuova tecnologia è un mezzo, come erano le onde e frequenze della radio, come era un mezzo la carta per diffondere l'informazione. Quello che è successo negli ultimi vent'anni è che questa nuova tecnologia, a questa nuova tecnologia è stato consentito di operare senza nessun limite e senza nessuna regola. Quindi servono regole internazionali condivise per il rispetto della verità sostanziale dei fatti, per il rispetto delle persone, per il rispetto dei più deboli e soprattutto poi una giurisdizione internazionale che possa garantire il rispetto di queste regole. Durante il dibattito con i giornalisti, Tremolada ha sostenuto l'importanza di mettere al centro dei programmi politici la natalità e ha spiegato il percorso nelle zone con i sacerdoti, ribadendo l'intenzione di programmare una visita pastorale. In preparazione al sinodo ha chiesto ai giovani di mettersi in ascolto degli altri giovani, soprattutto di quel 90% che non frequenta gli ambienti ecclesiali. Sulla povertà ha elogiato la Caritas, la San Vincenzo e la Congrega, mentre sui migranti ha affermato che dobbiamo domandarci come offrire un futuro alle persone che arrivano.